Buonasera benvenuti a 8 e mezzo, buonasera benvenuto Massimo Cacciari, filosofo, buonasera bentornato Lucio Caracciolo, direttore di Limes, buonasera bentornato Petrangelo Buttafuoco, giornalista. Allora in piena crisi diplomatica con la Francia Di Maio cerca di fare una retromarcia un po' rocambolesca per la verità. Intanto però lo spread è salito a 289 punti, ha chiuso a 289 punti e sono possibili anche ritorsioni industriali. Subito dopo la pubblicità. Professor Cacciari, lei che cosa ha capito di questa crisi diplomatica Italia-Francia e perché i Cinque Stelle l'hanno cercata con tanta insistenza? Ma io penso che al di là di qualche elemento di disordine mentale che fa parte del disordine globale, che ci coinvolge tutti e non solo il nostro povero paese, ci sia un calcolo anche elettorale. Ma scusa, perché dice disordine mentale? Perché c'è un po' di confusione, un governo che attacca un paese della comunità, la Francia con quei toni, in quei modi, un po' di confusione deve averlo nella zucca, mi pare evidente, ma al di là di questo io credo che c'è anche un calcolo, un calcolo proprio elettorale, loro devono recuperare le alleanze con i movimenti in Francia eccetera eccetera, devono recuperare in vista di una difficilissima per loro campagna elettorale, difficilissima. Allora ci arriviamo, Lucio Caracciolo, tu oggi su Repubblica hai scritto che Parigi scusate, ce la farà pagare cara, quanto e come? Ha solo l'imbarazzo della scelta, credo che Macron sia studiando i dossier e che abbia alcune possibilità, fin cantieri in particolare per quanto riguarda l'aspetto militare di alcune iniziative con i francesi, all'Italia in cui a France doveva entrare con una quota corposa, ma poi c'è la Libia, ma poi ci sono i migranti, ho visto già che il governo francese ha detto che non vuole sentir parlare di quelli della Sea-Watch se non sono effettivamente titolati a ricevere assistenza da rifugiato e poi in genere queste cose vengono fatte sotto il tavolo, insomma non è che possiamo vedere tutto. Quindi insomma un bel guaio. Sì, anche perché non abbiamo eventualmente armi di replica, credo che siamo in una situazione abbastanza peculiare, cioè di essere un paese molto isolato oggi. Sì, adesso torno subito da lei anche, però Pietrangelo butta fuoco, Di Maio diciamo insieme a Di Battista hanno messo in grave e imbarazzo non solo il ministro degli esteri Moavero, ma anche lo stesso presidente della Repubblica Mattarella, anche il premier Conte. Perché come diceva prima Cacciari tutto parte da un ragionamento elettorale, ma c'è di più, e cioè che noi forse abbiamo torto, ma non è detto che la Francia abbia ragione, perché comunque dobbiamo ricordare che tutto nasce da un dettaglio, ovvero la polemica sul franco francese nelle ex colonie. Nasce da questo dettaglio e cioè una polemica che è legata alla questione dei migranti, è legata quindi a una vecchia ruggine che l'Italia patisce anche storicamente da tempo, cioè possiamo ragionarcela anche così, dicendo che l'Italia subisce un tutto raggio da parte della Francia, un po' come il Canada con gli Stati Uniti o la Corea del Nord con la Cina, cioè l'Italia è sempre stata soggettata, non fosse altro, prima notavo sugli schermi le due bandiere, il tricolore ce l'hanno dato loro, ci hanno dato loro diciamo la struttura statuale, ci hanno dato loro quindi un imprinting su cui la paghiamo da tanto tempo. C'è la questione per esempio, quella libica mai risolta, che è una questione che ci ha tolto molto ossigeno, credo perfino in termini economici molto più pesanti dei dossier futuri su cui sta lavorando Macron. Quanto all'imbarazzo, una cosa veloce, mi fa riflettere un fatto, cioè che quando nasce il governo Mattarella confidava nei 5 Stelle più che nella Lega, confidava più in Di Maio che era sempre con la giacca, piuttosto che in Salvini con la felpa, adesso si ritrova la situazione ribaltata con Salvini che ha un'impostazione da statistica. Il dissidio, diciamo così, o motivi di contrasto con la Francia sono appunto antichi e sono gravi, citavi prima la questione dei cantieri, cose gravissime, migliaia di occupati, un settore importante di tutta l'industria italiana per dirne una e altri e c'erano i dossier aperti molto delicati. Un governo che in presenza di una situazione di questo genere con uno Stato come la Francia si comporta così è in confusione mentale. L'unica spiegazione, perché si tratterebbe di fare l'opposto, di cercare di attenuare questi contrasti, cercare di risolverli, non cercare di buttare, di aumentare i contrasti. Questo è pazzesco, dal punto di vista degli interessi nazionali è pazzesco e si spiega soltanto con una propaganda elettorale. No, se ricordiamo Ventimiglia, scusate, se ricordiamo Ventimiglia, cioè come si comportano i francesi con gli immigrati, no, 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 se ricordiamo Ventimiglia, cioè come si comportano i francesi violentamente con gli immigrati, in confronto alla polemica sul franco-francese è acqua fresca. No, va bene, ma voglio dire questi e altri, tutta una serie di motivi di contrasto, tu sei un governo nazionale, gli acquisci i motivi di contrasto con la Francia? Cercherai di risolverli, visto che hai anche questi, lo temo alle elezioni, è tutto drogato alle elezioni. Sì, però prima di andare in Francia normalmente un ministro o vicepresidente del Consiglio avverte il governo francese, fa parte diciamo della cortesia di Stato e i francesi allo Stato tengono parecchio, anche quando sono in crisi come oggi. In più dal punto di vista elettorale dicevate sì, ma fino a un certo punto perché se uno deve andare a incontrare i gilets jaunes non va a incontrare l'ultimo estremista di destra che è sconfessato. Carasso, ci arrivo subito perché in realtà capire chi sono questi gilets gialli francesi non è cosa così semplice. Ma prima volevo interpellare un attimo ancora il professor Cacciari perché lei diceva appunto uno Stato di confusione. Forse anche i 5 Stelle, Di Maio Battista non conoscono così bene la storia della Francia, viene da pensare. Per quanto Di Maio oggi nel tentativo di fare una marcia indietro ha elogiato la democrazia millenaria della Francia? Ha confuso la Francia con la Grecia? Ha dimenticato il 1789? A parte il fatto che la democrazia greca come si continua ad insistere per non fare confusione in prima elementare, la democrazia greca non ha nulla a che fare con la democrazia moderna eccetera eccetera. Quindi non è millenaria, sarebbe erroneo dire anche che è millenaria della democrazia greca, se si intende democrazia quella che intendiamo noi. È stata una battuta dai adesso non insistere, ha detto la secolare, ha detto millenaria, gli sembrava il più bello, gli sembrava di elogiare di più la Francia dicendo che era una democrazia millenaria però c'è una tradizione in Italia, c'è una tradizione in Italia di gaffa imbarazzanti però venivano giustificate, per esempio vi ricordate quando a Persepoli i più vecchietti tra gli telespettatori lo ricorderanno, quando a Persepoli Giovanni Leone, Presidente della Repubblica va a Persepoli, gli mostrano la tomba di Ciro il Grande e lui se ne esce però lo sapeva perché voleva fare la battuta, ah noi abbiamo Ciro a Mergellina, ma ancora peggio ve lo ricordate, fresca la gaff che oltretutto riguarda la nostra storia, quella di Berlusconi con Romolo e Remolo, però i laudatores la giustificarono dicendo che era un modo di stare, di essere affine all'uomo medio, però qui forse c'è una gravità e cioè che se consegni una lettera, qualcuno l'avrà scritta, Dio ce ne scampi ma chi è questo che l'ha scritta? Perché significa non conosce l'interlocutore, cioè o Dio ce ne scampi avrà immaginato che sia la democrazia o sinonimo di civiltà, Dio ce ne scampi non è così, oppure non conosce l'interlocutore perché lì c'è una cosa che si chiama rivoluzione francese, anche se forse civiltà non sarebbe proprio millenaria, poi perché grave è errore blu? Perché hanno il portale che si chiama Rousseau, eh sì, hanno il portale che si chiama Rousseau, e qui è il fondamentale che manca, va bene, qualcuno forse spiegherà, racconterà qualcosa della storia anche della Francia, caracciolo però veniamo ai gilets gialli francesi, quindi questo gruppo antagonista che vuole che Macron si dimetta, insomma hanno molte istanze nel loro carnet, ma hanno anche molti leader, ora Di Battista e Di Maio hanno incontrato questo Christophe Chalonson, che però viene sconfessato da altri gilet gialli sconfessato dai gilet gialli più importanti, cioè lui non conta quasi nulla, è un personaggio piuttosto curioso, famoso per le sue battute islamofobe e anche per invocare i generali al potere, in particolare il generale De Villiers come Presidente della Repubblica al posto di Macron e quindi insomma, se volevano parlare, molto a destra, se volevano cercare un riferimento nei gilet gialli che non è semplice perché è una galassia ancora più complessa della loro, hanno sbagliato, la loro intelligence non ha funzionato. L'intelligence non ha funzionato, e allora… Grazie che non abbiano trovato nessuno, anche, a voler fare l'interlocutore dei 5 Stelle. Ecco, ma la domanda è, Professor Cacciari, la faccio a tutti e tre, il Movimento 5 Stelle avrà una strategia, no, immagino, politica, anche in vista delle elezioni europee? Ora, se hanno pensato e pensano che corteggiare i gilet gialli francesi possa portare voti, intanto può portare voti, uno. Due, forse bisognava cercare gli interlocutori giusti all'interno di questo movimento di protesta prima? Intanto bisogna vedere appunto se gli interlocutori giusti ci stavano, ammesso che ci fossero, che ci siano. Ma poi il Movimento 5 Stelle non ha altra scelta. Per presentarsi alle elezioni, cercando di tenere questo immenso patrimonio che ha acquisito l'anno scorso, deve andare in quella direzione lì, deve cercare di ricollocarsi come un movimento molto ampio, assolutamente trasversale, né destra né sinistra, né destra né sinistra né centro. Tutte le proteste sono mie, tutto il disagio è mio, tutta la contestazione del sistema, dell'elite è mia. E quindi per forza che vanno in cerca dei gilet gialli, per forza. Però non è anche un rischio mettersi insieme a un movimento, anche fatto di tanti cassers, di tanti... Non è una forza di governo. Il problema su cui vorrei insistere è che non è una forza di governo, è pacifico. Perché una forza di governo non si comporterebbe così con il governo francese, con una forza di governo non va a prendersi leader di discusi. Non è una forza di governo, ma in questo momento il signor Di Maio è il vicepresidente del Consiglio italiano, quindi non è che può essere un semplice leader dei 5 Stelle che va a incontrare un suo parigrado. Ma oggi però... Non è una forza di governo, non è una forza di... Sì, certo, non è una forza di cambiamento. Ora è inevitabile che per esempio Salvini ha come riferimento Marine Le Pen a Parigi, così come è ovvio che il Partito Democratico abbia come riferimento i socialisti. Loro hanno come riferimento comunque una novità, un fatto nuovo e portano in dote... Infatti Di Maio quando Macron era nuovo lo elogiava. Lo elogiava. E loro portano in dote che cosa? Quello che secondo me ancora vale è il vantaggio tutto italiano di avere drenato i miasmi, i rischi, le violenze e comunque questi gilet gialli li ha messi già al governo. È questo vantaggio che lui va a portare lì. È perché quello che è accaduto in Italia, ce lo ricordiamo, perfino Trump, che cos'è? È quello che noi abbiamo già visto con Berlusconi. Ho capito. Il fatto di rappresentare qualcosa di nuovo non significa necessariamente di rappresentare qualcosa di buono e soprattutto non significa che nei rapporti internazionali che sono millenari si possano fare delle cose che non si fanno, tipo andare a fare politica come governo in un paese altrui. Però tutto quel millenario, ormai funziona la formula millenaria, tutto quel millenario ci ha portato in questa situazione. Certo. Tutto quel millenario si è rivelato inutile. Come è inutile? No, inutile perché abbiamo visto l'esito. Si è visto di peggio a questo mondo. Si è visto di peggio. Ah, appunto per questo. Appunto per questo è una meraviglia. Proprio perché non abbiamo visto violenze, proprio perché non abbiamo visto neppure quel volte cercando di correggere il tiro, tra le altre cose ha detto, in corso non c'è alcuna lite, io ho il diritto di incontrare altre forze politiche e collaborare allo stesso tempo con il governo francese, con Macron siamo avversari politici ma facciamo parte di governi di popoli che sono amici. Si appunto, voglio dire, è una confusione totale tra ruolo politico e un ruolo politico come quello svolto dai 5 Stelle. Io ho sempre detto che i 5 Stelle in Italia hanno anche tenuto una possibile ondata di protesta ingovernabile e incontrollata, perché i motivi di disagio, i motivi di contestazione delle elite che abbiamo avuto finora in Italia sono al bizzeffe, quindi sicuramente i 5 Stelle hanno svolto anche questo ruolo, ma a questo punto che sono al governo dovrebbero cominciare a comportarsi da forze di governo, non possono andare avanti a fare i leader politici che contestano altri stati all'interno di questi stati e nello stesso tempo dire sono il primo ministro, sono il vice ministro, sono il presidente del Consiglio. Non è possibile, non si è mai visto, non si è mai visto. Appunto per questo è nuovo. Ma è nuovo, ma appunto come diceva Caracciolo non è che tutto il nuovo sia buono, è un nuovo pericolosissimo, anche altre cose sono state nuove nella storia europea, hanno portato disastri inenarrabili. E' tutto fuoco? Ci mancherebbe altro dire che basta dire che sono nuovi. E' nuova cosa? E' stata. Questo è un nuovismo italiano portato a sinistra a Renzi. Io vorrei avventurarmi in un qualcosa che non è, è proprio analisi. Questi sono arrivati e hanno portato delle cose con cui dobbiamo fare i conti. Dobbiamo fare i conti che per esempio hanno sfasciato, è stata una cosa meravigliosa, le vecchie clientele. Hanno pensionato Berlusconi e hanno pensionato anche Renzi. Esiti politici ci sono stati. Chi è il soggetto? I nuovi. I nuovi. Stavamo parlando dei nuovi. E consideriamo Salvini nuovo? Salvini per esempio, abbiamo visto la fotografia, appunto rispondo, abbiamo visto la fotografia della conferenza stampa del cosiddetto centrodestra in Abruzzo, ha di fatto cancellato quella storia. Erano perfino lontani, il linguaggio del corpo svela molte cose, e da solo, e da solo sta giocando una partita insieme agli altri che da soli, sempre soli, hanno tutto l'interesse a restare insieme, a durare, a far sì che comunque quello, usiamo ancora una volta, il millenario non torni più. Sì, ma per il fatto di essere nuovi hanno inventato una narrazione che non sta in piedi e hanno creato delle aspettative assolutamente smodate. Ora dovranno in qualche modo fare i conti con la realtà e questo li porterà su terra. Sì, sì, ma stanno facendo le cose che avevano promesse in campagna elettorale, avevano detto che facevano il famoso reddito di cittadinanza e l'hanno fatto. L'hanno promesso anche il 1,8%, l'hanno fatto, probabilmente speriamo facciano anche la tassa piatta che quella servirebbe per davvero. Voglio dire, comunque anche tutto quello che diceva Salvini in campagna elettorale lo sta facendo, cioè che cosa, tanto è vero che la benedetta luna di miele che di solito i governi hanno che dura 100 giorni e l'hanno passata da un bel pezzo, anzi se valgono i sondaggi, dal 50 per 100 care, e questo è il fatto, l'opposizione se la fanno tra di loro, cioè offrono al mercato la stessa cosa, il governo e l'opposizione. Ma fino a quando può durare questo gioco di essere di lotta di governo? Adesso lo sa, entro l'anno tutti i nodi questi discorsi qui, perché entro l'anno si vedrà se il spread continua ad aumentare, se invece dell'1,8% di aumento del PIL su cui hanno fatto tutti i loro conti della finanziaria siamo addirittura sotto, se bisognerà vedere come vanno le elezioni europee, quale sarà la governance europea dopo le elezioni, se ci daranno un po' di margine oppure no, si tratterà di vedere tutto questo, ma comunque entro l'anno i nodi vengono al pettine e secondo me andiamo a sbattere. Aggiungerei il fatto che non arrivano più i migranti, la carta di Salvini sui migranti funzionerà sempre di meno, la storia del reddito di cittadinanza vediamo come funziona, la storia delle pensioni vedremo come funziona, perché se in realtà sono sballati anche lì tutte le previsioni e per esempio quelli che fanno domanda per pensione superano una certa cosa, si va in crisi l'Inps, bisognerà vedere, bisognerà vedere. Per intanto la luna di mele però è una coabitazione coatta, dove potevano andare dopo il risultato elettorale, ma era evidente, o c'era un partito democratico in campo con una sua strategia, con una sua leadership e allora potevano entrare a gamba tesa su questa, a questo punto per forza, anche Mattarella stesso li ha spinti a formare il governo. No, no, ma dicevo la luna di mele tra questo governo e il loro elettorato. Ma tanto vedremo, sull'elettorato di Salvini sicuramente tiene, perché quello è un elettorato ben radicato, soprattutto in alcune regioni ma non solo, c'è un partito vero e proprio, un gruppo dirigente, presidenti di regione e ci sono tante cose. Gli altri sono appunto quelli che vanno a dire viva i gilet gialli. E quindi sai, staremo a vedere le elezioni europee, ma i 5 Stelle e le elezioni europee per quello sono così agitati, rischiano la pelle, perché possono prendere una botta tremenda le elezioni europee. Se ci fosse una forza decente dall'altra parte, sarebbe da giurare che si prendono la botta. Con il PD che fa il segretario, che fa il segretario nazionale un mese prima delle elezioni europee, guarda te, siamo la fantapolitica. Ecco, intanto volevo ricordarvi che c'è un appuntamento elettorale considerato comunque un piccolo test importante domenica in Abruzzo. Tu ricordavi la fotografia di ieri, abbiamo visto sullo stesso palco, ieri Salvini, Berlusconi e Lameloni, anche se Salvini ha chiarito più volte che questa costellazione si poteva riprodurre a livello nazionale. C'è da crederli? Sì, c'è da crederli perché lui adesso è determinante. Che senso ha caricarsi di nuovo la vecchia storia e poi far diventare determinanti gli altri. Ma poi soprattutto è un magnete irresistibile, non solo per il gruppo dirigente di Forza Italia, ma per l'elettorato. L'elettorato trova in lui un'efficacia e una sintesi che non trova più in Berlusconi, che ormai si è avventurato, per esempio, notato. Faceva un discorso che non stava... ha detto che è fondamentale fare una forza politica che combatta l'imperialismo cinese, del partito comunista cinese e l'imperialismo dell'impero ottomano di Erdogan. Mi è venuto in mente che giusto lui è quello che ha venduto il Milan a un cinese e poi è stato testimone di nozze della figlia di Erdogan. Cioè, proprio lui è che la politica estera, lì in quel campo se la giocava con un certo livello. Per carità, le elezioni in Abruzzo sono fondamentali, ma il problema è che noi diamo peso a dei fenomeni piuttosto relativi, dimenticando quello che conta, cioè di essere un paese indebitato fino al collo, che dipende quindi in maniera vitale dal clima internazionale, dal clima dei mercati, da come i nostri alleati... Oggi lo spread a 2,89. Faccio un esempio un pochino più concreto. Dovremo decidere nei prossimi settimane, non mesi, se firmare un accordo con la Cina per le vie della seta. Ora, tutto è possibile, è possibile pure che lo firmeremo e poi comunque sarà un accordo sufficientemente flessibile, ma saremmo l'unico paese del G7 a farlo. Lei crede che questa cosa resterà inosservata? Lei pensa che gli americani siano contenti, tanto per citare un caso. Quindi dobbiamo soprattutto guardare a quello che accade intorno a noi. Il problema, diciamo non irrilevante di questo governo, è anche la politica estera. Per chi l'ha fatta politica estera? Tutti e nessuno, in troppi comunque, tant'è che appunto, boh, chi ha deciso che linea tenere con la Cina? Chi decide di andare contro la Francia? Dico una battuta che forse... ma la politica estera non la può fare l'Italia, è una barzelletta pensare... No, però normalmente c'è una linea, quando c'è un governo c'è una linea... La politica estera la potrebbe fare, la potrebbe fare una politica estera da protagonista, la potrebbe fare un'Unione Europea. Chi la può fare? La politica estera in Italia. E quindi... Siamo freschi. Però bisogna ricordare che... Ma puoi pensare che l'Italia, a prescindere dal governo che abbiamo, può fare una politica estera, no? Sto dicendo che la politica estera può farla anche San Marino, il problema è che tu devi essere un soggetto e l'Italia in questo momento si trova... Abbiamo tirato fuori degli esempi che si tratta di una, più che di politica estera, di una diplomazia intelligente che abbia in vista gli interessi anche materiali ed economici del paese, tutto qua. Questo non c'è dubbio, noi abbiamo un deficit di sovranità che è inutile che ce lo spieghiamo stasera, lo sappiamo perfettamente, però c'è anche da ricordare che questo governo nasce anche perché c'è stato il placet dell'amministrazione americana. Vi ricordate la prima dichiarazione totalmente disponibile nei confronti di questo governo che la legittimava davanti al mondo arriva dall'amministrazione americana, tanto è vero che noi abbiamo tanti disagi, tanti disastri. Mi viene da pensare giusto sulla questione cinese, se ricordiamo che per esempio altro che Tav, lì ci sono due importanti snodi proprio in Italia, uno è a Ortona e l'altro è a Gela, cioè l'alto pescaggio che servirebbe alla via della seta per evitare di farsi il viaggio lungo oltre lo stretto di Gimilterra. La Cina è interessata proprio a quello e chissà che nel grande gioco gli americani non abbiano valutato la necessità di dare ossigeno proprio all'Italia, anche per scardinare l'Unione Europea, questo non c'è dubbio. Tutto può essere comunque l'interesse cinese in questo momento è su Trieste più che altro e Trieste come sappiamo è un porto italiano. Perché è già pronto, ma l'alto pescaggio ce l'hanno a Ortona e a Gela. Allora, Cacciari prima parlava dei numeri dell'economia che non sono tanto buoni, non andiamo bene sul fronte della politica estera ma non andiamo nemmeno bene, anzi andiamo molto male sul fronte dell'economia come ci ricorda Paolo Pagliaro nel suo punto, pochi secondi di pubblicità. Banca d'Italia, Fondo Monetario Internazionale, Confindustria, analisti di mercato, ultimo alla Commissione Europea. Sul futuro dell'economia italiana tutti fanno previsioni più allarmanti di quelle decisamente rosee formulate dal governo. Il 19 gennaio Banca d'Italia aveva previsto che nel 2019 ci sarebbe stata una crescita del PIL pari allo 0,6%, mentre per il governo cresceremo dell'1% o più. Di Maio aveva reagito dicendo che sono diversi anni che la Banca d'Italia non ci prende nelle stime. Ieri si è replicato lo stesso copione ma con attori diversi. La Commissione Europea, più severa di via nazionale, ha stimato una crescita del PIL italiano nel 2019 dello 0,2%, la più bassa nell'Unione Europea. Questa volta ha reagito Salvini, osservando che a Bruxelles non hanno mai azzeccato una previsione negli ultimi dieci anni. A giudicare la fact-checking di Agi e Pagella Politica diciamo che Salvini ha ragione. In effetti negli ultimi dieci anni le previsioni diffuse dalla Commissione Europea a inizio anno sulla crescita del PIL durante l'anno si sono sempre rivelate imprecise, con uno scostamento massimo di 1,4 punti percentuali nel 2012 e uno minimo di 0,3 nel 2015 e nel 2016. Quello che Salvini non dice però è che l'errore della Commissione in sette casi su dieci è nato da un eccesso di ottimismo, cioè in genere Bruxelles attribuisce all'Italia una crescita del PIL superiore a quella che poi effettivamente si registra. A giudicare dagli ultimi dati sulla produzione industriale c'è il rischio che sia così anche questa volta. Allora, Professor Cacciari, i dati economici sono quelli che abbiamo sentito, Di Maio dice che questi sono solo racconti catastrofisti. Cosa vogliamo commentare? Invece dello 0,2 sarà 0,3 e mi auguro che sia l'1,8 come dicevano loro, ma tutti sanno che le previsioni che avevano azzardato erano esagerate. Speriamo che ci siano dei margini per fare alcune cose, tra cui io ritengo, lo dico da tempo, anche intervenire per quanto riguarda questo reddito di cittadinanza, perché in una situazione come quella italiana, nella quale il 10-15% di gente è disoccupata e il 50% dei giovani lo è o va in cerca di lavoro o a lavoro totalmente precario, un paracadute un po' più solido di quelli precedenti ci occorre, se vogliamo tenere un minimo di pace sociale. Quindi mi auguro che ci sia il margine per combinare qualcosa in alcuni settori, ma non ci vengono a dire che questi interventi sono interventi che riorganizzano e ristrutturano la nostra economia, perché sono puri interventi assistenziali, dopodiché in certe situazioni anche l'assistenza è necessaria, ma che non vengano a raccontare che con questi strumenti rimetti in moto qualcosa, non rimetti in moto nulla, assisti in una situazione di emergenza critica e va bene l'assistenza, ma non vengono a raccontare quello che non è. Magari potrebbero leggere il suo ultimo libro dal titolo La mente inquieta, non gli aiuterà molto, non gli aiuterebbe a non dire che la democrazia francese è millenaria. Ha detto niente, questo anche per ricordare che è appena uscito il suo ultimo libro che si chiama La mente inquieta, saggio sull'umanesimo ed è edito da Einaudi, siamo in chiusura e voglio ricordare che nelle edicole, nelle librerie è anche l'ultimo numero di Dimes, La febbre dell'Artico. La febbre dell'Artico? Il fatto che si annunci lo scioglimento dei ghiacci apre tutta una partita fra americani, russi e cinesi sulle nuove rotte che possono collegare l'Asia all'America e quindi si possono aprire delle partite piuttosto interessanti. Il famoso alto pescaggio. Il famoso alto pescaggio. Quindi ci sta con l'umanesimo che è l'epoca delle navigazioni, no? Ecco, e così abbiamo chiuso il cerchio. Sempre mare. Grazie, è siciliano, ecco qua. Grazie Petrangelo Buttafuoco, grazie Lucio Caraccelo, grazie Professor Cacciari, grazie spettatori, linea propaganda live Diego Bianchi, quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo. Arrivederci.